Ciao a tutti! Allora, prima di iniziare questo video, volevo intanto farvi gli auguri di Natale in ritardo e visto che appunto non vi avevo fatto nessun video a Natale così, vi faccio gli auguri adesso. Prima di iniziare il video in questione, volevo dirvi una cosa. Non so se avete visto vari video a giro su YouTube, praticamente c'è stato un aggiornamento e i canali piccoli vengono un po' messi in secondo piano, quindi se voi siete iscritti a dei canali ma non mettete mai un mi piace, non commentate mai, quel canale, soprattutto se è piccolo, automaticamente non vi apparirà più nella home, non vi appariranno più i nuovi video che quella persona carica nella vostra home page di YouTube. Addirittura alcune persone sono state automaticamente disiscritte dai canali. Quindi, vi chiedo, non solo sul mio canale, ma in generale di magari essere più attivi anche solo con un mi piace, non importa il commento, se magari uno non ha tempo, non sa che scrivere, basta un mi piace e intanto riusciamo tutti quanti appunto a mantenere più visibili alcuni canali. E poi potete fare come ho fatto io, che è l'unica soluzione, diciamo, migliore. In fondo, dove c'è sotto il mio video, come sotto il video di chiunque, c'è appunto il piccolo loghino con il nome del canale della persona che state vedendo il video, quindi in questo caso Marti l'angolino magico e poi accanto c'è una campanella. Cliccando su quella campanella vi arrivano le notifiche ogni volta che io carico il video. È vero che le notifiche arrivano via email, quindi è un po' una rottura, però intanto Gmail vi divide automaticamente l'email come email personali, social, quindi YouTube e tutto quanto e pubblicità, quindi già divide. E poi potete fare, se come me siete iscritti a 100.000 canali, io ho fatto in 3 secondi un account, una nuova email con un Gmail e la utilizzo solamente per YouTube. Così sono sicura di non perdermi nessun video. Capisco che è un po' uno sbattimento, però è l'unico modo. Intanto, se no, potete appunto cercare di essere più attivi. Io sto cercando di farlo con gli altri canali. Comunque, detto questo, volevo farvi appunto questo video, che sarà l'ultimo per quest'anno. Ci rivediamo poi il prossimo anno con quello che ho ricevuto a Natale, il video dei regali che ho ricevuto a Natale, e il video giveaway di fine anno, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi appunto il giveaway. Allora, questo video è il video, come avete potuto leggere dal titolo, sulle scorte dei burro cacao che ho. Io cerco io personalmente di non comprare troppi prodotti per non fare un accumulo eccessivo. Con i burro cacao non riesco. Sarà perché costano poco, perché mi piacciono particolarmente. Non lo so, ogni volta che faccio un ordine e vado in un negozio a comprare qualcosa, ci butto anche il burro cacao. Quindi ne ho accumulati tanti. Nonostante questo, sto molto attenta a non aprirli per non far scadere il pao. e a guardare anche appunto le scadenze per non farli scadere. Quindi fino ad ora non è mai successa una cosa del genere, perché ci sto molto attenta. Comunque sono anche prodotti che utilizzo. Io ora ne ho aperti tre e le ho quasi finiti tutti e tre, quindi nel senso sono anche cose che utilizzo. Allora, volevo partire con uno. Scusate, amore. Allora, questo qua è una scatolina che contiene due burro cacao. Uno l'ho tolto, nuovo ovviamente, uno l'ho tolto. L'ho messo da parte per voi, per il giveaway. E sto parlando del balsamo Labbra Intensive all'Aloe Vera e Olive di Neobio. Eccolo qua. Questo ne ho sentito parlare molto bene, sono due e uno ho deciso di darlo a voi. Poi, per Natale, quindi questo lo vedrete anche nel video dei regali di Natale, ho ricevuto questo novità, che è uscito veramente da poco, che è il balsamo Labbra all'arancia della Benikos. Eccolo qua. Questo sono molto curiosa di provarlo, era già nella wishlist, anche se era uscito da pochissimo. E invece Babbo Natale è sorpresa, me l'ha portato, quindi yeah. Poi, all'Alconad c'è una marca che si chiama Naturaline ed è certificata EcoCert. Di questa marca ho acquistato questo balsamo Labbra all'olio di macadamia, burro di karité e vitamina E. Ed è in questo tubicino, non è in stick. Eccolo qua. L'ingrediente ovviamente sono buonissimi. Io l'ho comprato, poi ho visto delle recensioni e non ne parlano tutti benissimo, quindi speriamo, speriamo. Io comunque le confezioni così in genere le utilizzo per la sera, non le utilizzo durante il giorno perché sono un po' scomode. Poi, in una biobox dedicata alle novità del Sana 2016, vi lascio il link del video tra le schede nell'infobox, ho ricevuto questo a dolci labbra, frutta labbra, la ciliegia di natura equa, che è veramente carinissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Come vedete il colore è così ed è bellissimo, curiosissima. Poi, il prossimo burro cacao che invece aprirò veramente tra pochi giorni è questo qua di Fleur de Lune ed è il balsamo al caffè. Questo qua sono curiosissima di provarlo e poi in ordine di scadenza devo aprire prima questo, quindi questo me lo metto già ora da parte. Poi, tre burro cacao comprati insieme da Acqua e Sapone, che non sono bio ma che li ho acquistati dopo aver sentito l'odore molto molto veritiero appunto di quelli che aveva preso una mia amica, quindi poi ho deciso di comprarlo e sono questi tre. Eccoli qua. E sono uno alla Coca-Cola, uno alla Fanta e uno alla Sprite. Sono carinissimi e sono veramente molto profumati e questi sono 4 grammi di prodotto. Eccolo qua. Bellissimi, bellissimi. Poi, vediamo qua. Della Yves Rocher, quest'anno, come edizione natalizia, ho acquistato due balsamo labbra, uno per cacao e una clementina e spezie. ho annusato le profumazioni dai bagno schiuma e sono una cosa spettacolare, quindi ho dovuto comprare il burro cacao. Io in genere della linea della Yves Rocher, in edizione limitata di Natale, in genere prendo o la candela o il profumo, ma il burro cacao in ogni caso l'ho sempre acquistato perché sono malata e quindi questi. Poi, sempre della Yves Rocher, ne ho un po'. Allora, ne ho tre che erano in edizione limitata ed erano legati a una cosa di beneficenza dove acquistando appunto uno di questi tre burro cacao si aiutava una donna in Guatemala. quindi li ho presi e mi sembra venivano due o tre euro, due burro cacao e tre euro e sono bellissimi, hanno un packaging bellissimo e sono questi tre. Vi avevo messo anche una foto, mi sembra, su Instagram. se riesco ve la metto così potete vedere le foto, i disegni più da vicino. poi invece in edizione permanente ci sono dei burro cacao. Io non li ho presi tutti perché non mi piacciono tutte le profumazioni. Questi burro cacao sono stati riformulati perché se vi ricordate quelli vecchi non avevano le confezioni così e anche gli ingredienti adesso sono buoni, non c'è più la paraffina, quindi se siete interessati sappiate appunto che gli ingredienti sono buoni e non sono neanche tanto costosi e io ho preso questi al burro di karité, al cocco, alla vaniglia e alla noce di macadamia. Questi qua. poi finiti quelli della Yves Rocher che c'è sono tantissimi ne ho tre di Alchemilla e ho tre appunto a dolci labbra e ho torta di mele che è uno di quelli più famosi poi ho cappuccino e nocciotella e anche questi io non vedo l'ora di provarli. Poi su Ecco Verde ho acquistato un po' di robetta nel corso dei mesi allora ho preso questo qua Ecco Cosmetics ed è questo ne ho sentito parlare benissimo mi sembra anche da Giulia del canale Kina Yoshimoto e questo sarà il prossimo che aprirò dopo questo ne ho due della Crazy Rumors uno alla cola e uno al bubblegum eccoli qua della Crazy Rumors ne ho già provati due vi lascio il link della review tra le scade e giù nell'info box gli ho provato quella all'ibisco e quella alla moca quella all'ibisco non mi era piaciuto perché era troppo dolce quella alla moca non mi era piaciuto perché era un po' troppo ceroso l'odore era un pochino strano e aveva un sapore cioè sembrava di aver mangiato quindi non mi era piaciuto non mi erano piaciuto particolarmente speriamo in questi due poi ne ho uno della Bars Bees questo qua è alla menta e vitamina E questo qua quindi appunto perché alla menta lo aprirò d'estate è più rinfrescante quindi non mi sembra adattissimo per l'inverno poi ne ho quattro di La Vera io adoro la La Vera ne avevo già provato uno finito mi è piaciuto un sacco e vi ho fatto un video confronto di vari burro cacao tra cui c'era anche quello lì vi lascio il link del video e e io cosa ho preso questo qua della linea basis sensitive poi ho preso questo qua che invece è quello nude poi ho il classico e infine il rosè poi ho preso a berlino questo qua della binetural al mango eccolo qua poi questo qua di balea al languria all'anguria e anche questo qua che è un nude poi ho questo qua di al verde che è shimmer e questo qua di al terra che è quello al melograno come ultimo invece ho questo qua di nonic che anche questo l'ho trovato in una bio box non mi ricordo quale comunque quando mi viene in mente vi lascerò il link ed è quello di nonic anche questo è quello intensive eccolo qua nel tubino da 6 millilitri quindi questa era la mia scorta non prendetevi prendetemi per matta anche se un pochino lo sono e fatemi sapere invece voi se avete qualcosa con cui siete fissati che magari non ne avete neanche bisogno ma che ogni volta che vedete quel prodotto a giro dovete prenderlo fatemelo sapere perché sono curiosa non credo di essere solo io l'unica matta nel mondo spero io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.